Salve a tutti e benvenuti nel Rifugio, appuntamento mensile con il mensile di Paperinic, in questo caso vedremo il numero 91 di luglio 2024, abbiamo sempre delle cover splendide ad opera di Ivan Bigarella e Luca Merli, guardate che bellissimi questi disegni, nonostante Paperinic ne sia le prese con un'esplorazione di una fogna, si potrebbe dire, però anche il disegno di una fogna disegnata da Ivan Bigarella. E' qualcosa di speciale, ma all'interno come sarà? Ci saranno sempre le solite ristampe? Andiamola a guardare. Eccoci qua come sempre con Paperinic, come sempre, oddio, poi adesso siamo a meno 9 ragazzi, perché quando arriveremo al 100 io smetterò di acquistare Paperinic, quindi non porterò nemmeno video ovviamente sul canale, a meno che non termini prima la testata, cosa che ormai credo che non accadrà, oppure se appunto terminerà prima e uscirà una nuova testata, prenderò almeno il primo numero di quest'altra nuova testata, altrimenti niente. Ma ritorniamo a noi, numero di luglio, come detto nell'intro, vediamo questa bellissima copertina disegnata da Ivan Bigarella e colorata da Luca Merli, davvero bella, 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 con i giochi di luce, di ombre, con questa melma fetida, verdastra e giallognola, riescono a creare capolavori anche con scene, diciamo, tetre, di ambienti poco belli, potremmo dire, l'unico punto a favore di questa testata, anzi uno dei due punti a favore, perché il secondo lo vediamo adesso. Abbiamo In vacanza con Paperinic, dove lo sconosciuto editorialista ci introduce alla nuova storia dei capitoli di Diary Walking Knight, e poi abbiamo le altre storie. Quindi iniziamo subito con Diary Walking Knight, capitolo 21, trappola su Monte Crudele, innanzitutto vi ricordo che a brevissimo, diciamo a metà luglio, dovrebbe uscire il volume con la prima serie di Diary Walking Knight, già stampato l'anno scorso dall'Aggiunti, che però, la versione dell'Aggiunti costa 12 euro, 12,90 euro, adesso non ricordo, un po' più alto, diciamo rispetto a questi volumi qui come Paperinic, mentre a metà luglio uscirà un volume della Panini, sempre con la prima serie, anzi avrà addirittura più pagine, quindi avrà qualche contenuto in più, al prezzo però di 4,90 euro, ragazzi, quindi sarà da prendere, sicuramente la carta non sarà dalle migliori, dato il prezzo, ma ragazzi vi dico che ho sfogliato il volume dell'Aggiunti in libreria, è comunque carta riciclata, quindi... Poi voglio dirvi che questo numero in particolare presenta una carta, forse ecco, meno riciclata rispetto a quello degli altri numeri di Paperinic, perché i colori non sono slavati qua, o forse hanno deciso di utilizzare una carta un po' migliore, si saranno resi conto che i colori erano davvero pessimi nei scorsi numeri, comunque, su questo numero non posso dire nulla sulla qualità della carta, è migliore, cioè, al tatto sembra la medesima carta, ma vedendo i colori sono meno slavati, quindi può darsi che o abbiano utilizzato un sistema di stampa diverso, oppure davvero la carta si è riciclata, ma non così tanto come quelle precedenti. Ma tornando a noi, Diary Walking Night, capitolo 21, trappola su Monte Crudere, di Riccardo Pesce ai testi, in questo caso abbiamo Alessandro Pastrovecchio, che si alterna sempre col fratello Lorenzo per queste storie, e la storia inizia con Fox Knight, ovvero Paperina, che sta cercando di capire come mai gli animali del bosco stanno scomparendo, mentre Zio Paperone, Paperino e Nipotini si trovano ancora con il loro pellegrinaggio, si ritrovano in un villaggio dove c'è una riunione di Giullari, dove verrà decretato il re Giullari. In questo caso, in questa storia, in questo capitolo, Sir Paperinic non sarà praticamente presente, ma sarà presente solo Fox Knight. Guardate che belli i disegni qua di Alessandro Pastrovecchio, anche i colori sono davvero molto molto belli, stavolta esaltati e non slavati, e quindi vediamo come la protagonista di questa storia sarà Fox Knight, che dovrà avere a che fare, ecco, con un dubbio omletico, se salvare gli animali del bosco, però facendo sì che Amelia, o meglio Lasky, possa prendere il rubino rubicondo, oppure appunto non dargli il rubino e non salvare gli animali. Alla fine vedremo come Fox Knight cercherà di creare una specie di piano per poter, ecco, salvare capre e cavoli, però non voglio svelarvi altro. Passiamo ora, invece, alle altre storie, ragazzi. E qui inizia, nuovamente, la sagra della ristampa, perché abbiamo Paperinic e l'estate a Villa Lalla. Questa è una storia scritta da Fabio Michelini e disegnata da Marco Gervasio, uscita in origine su Topolino 2437 del 13 agosto 2002, e qui vediamo i primi approcci di Marco Gervasio, qui solo come veste di disegnatore, con il mondo di Paperinic e sempre con le citazioni a Fantomius. Successivamente, nelle storie, vedremo come Gervasio farà suo, il personaggio di Paperinic, così tanto da creare il passato stesso di Fantomius. Però, questa storia, nonostante sia bella, dove vediamo, appunto, Paperino, che per tirare un tiro mancino a Gastone e Paperina, che, come al solito, se ne andranno in vacanza senza di lui, Paperina farà queste scenate di gelosia e poi se ne andrà da Gastone, vediamo come Paperinic, grazie a un nuovo diario di Fantomius, riuscirà a trovare l'obbligazione di questa Villa Lalla, che era la residenza estiva di Fantomius, e tirerà uno scherzetto a Gastone e Paperina. Però, alla fine, ecco, diciamo che Paperina rinsavirà, e io qui, se fossi stato al posto di Paperino, l'avrei mandato a quel paese, perché, appunto, odio questo comportamento di Paperina, che prima fa vedere che se ne andava con Gastone, poi, però, basta che Paperino le fa vedere, insomma, che lui è il migliore, e subito torna da lui. Ecco, questo è proprio il comportamento delle Papere e delle donne che non dovrebbero mostrare nei fumetti. Comunque, una storia del 2002. E questa storia, comunque, è stata ristampata, ragazzi, oltre che sulla prima uscita, su Topolino 2437, anche su Paperinic Cult 52, Paperinic Upgrade 10, Paperinic Origini del Mito 56, e, ragazzi, qua, che mi dà fastidio molto questa cosa, su Paperinic, questa serie, Paperinic del 2018, numero 21. Quindi, io questa storia la possiedo già abbastanza volte. Proseguiamo, poi, con Paperinic La Crociera Impegnativa, storia scritta da Carlo Panaro e disegnata da Ottavio Panaro. Quindi, abbiamo i fratelli Panaro, possibile? Strano, se sono fratelli, non lo so, non mi ricordo. Comunque, questa storia è uscita in origine su Paperinic Cult, numero 27, poi è uscita su Paperinic Upgrade, numero 10, e su Paperinic L'Origini del Mito, numero 68. Quindi, ci sta, questa storia, appunto, non è uscita su questa testata, ma sulla precedente Paperinic Upgrade, quindi, nulla da dire. E la storia vedrà Paperinic invitato sulla Quindac, una nave di Zio Paperone, nelle vesti di, diciamo, guardiano, ufficialmente, ma alla fine, più che altro, per convincere questo sultano, questo marajà, a contrattare un affare con Zio Paperone, perché questo marajà è, diciamo, attratto dalle persone forti e eroiche. Vediamo, quindi, come Paperinic inizialmente cercherà di dare sfoggio di sé, ma il marajà non crederà alle sue, diciamo, alle sue imprese, ma poi vediamo come la nave sarà abbordata da dei pirati, e qui, poi, succederà qualcosa, e non vi svelo altro. Abbiamo poi Paperinic e Progetto Zero, storia scritta da Gabriele Mazzoleni e disegnata da Ottavio Panaro, uscita in origine su Paperinic Upgrade, numero 42, ed uscita successivamente su Paperinic Panini, sempre numero 28. E qui questa cosa mi dà molto, molto fastidio, perché, infatti, me la ricordo questa storia, dove avremo a che fare con il giocattolaio che ruberà da un centro ricerca questo meteorite particolare, che verrà toccato da un ragazzo, da un papero, che acquisirà dei poteri particolari, e poi vedremo, appunto, Paperinic fare da baia a questo Neo supereroe, Neo supereroe che sogna, anche lui, di avere un fumetto dedicato a lui. Guardate che bello, questo è proprio un rifacimento della copertina, di una delle prime copertine di Paperinic, di Paperinic Upgrade, proprio. Storia carina, però, appunto, ristampata innumerevoli volte. Poi abbiamo Paperinic, l'attacco dalla dimensione perduta, storia scritta da Gabriele Panini, disegnata da Valerio Eldo, uscita in origine su Paperinic Upgrade, numero 8, ed è stata ristampata, poi, su Paperinic, l'origine del mito 85, ovviamente, perché è una omnia, e su Paperinic, purtroppo, della Panini, numero 30, del 2018. Quindi abbiamo sempre una storia ristampata, ristampata sulla stessa testata. Paperinic sarà, se la dovrà vedere con dei aglini che vengono da un'altra dimensione. Molto particolare come storia, vediamo un po' di gadget in più di Paperinic. Poi abbiamo Paperinic e la forza del tifo, questa è una storia scritta da Bruno Sarda e disegnata da Lara Molinaro, qua hanno sbagliato Lara Molinario, hanno scritto, invece Lara Molinari, no, Lara Molinaro dovrebbe essere, e in origine è uscita su Topolino 2431, nel 2 luglio 2002, ed è uscita anche su Paperinic Cult 52, Paperinic Upgrade numero 12, le più belle storie Disney della Giunta dedicate allo sport, e Paperinic l'origine del mito 57. Quindi questa storia non è uscita su Paperinic attuale, e di questo sono contento. Vediamo che Paperino sta guardando il Paperopoli, che è arrivato in finale di Coppa, e telefona anche a Paperina, anzi, diceva una chiamata da Paperina, perché dice che appunto andrà a comprare i biglietti per la finale, però Paperina gli dice che invece, grazie o a causa del club delle ragazze, la Contessa De Quac le ha regalato due biglietti per praticamente una serata di un concerto, ecco, di un grande musicista, concerto che si darà lo stesso giorno della partita, e qui a Paperino gli vengono in mente appunto delle tecniche per poter far saltare il concerto, potersi andare a vedere la partita, ovvero cercare di tirare dei tiri mancini al musicista, che è famoso per essere molto superstizioso, facendo sì che lui possa rinviare il concerto, però poi scopriremo alla fine che il musicista aveva già rinviato il concerto, perché anche lui è un tifosissimo del Paperopoli, però alla fine succederà qualcosa di particolare, che non voglio svelarvi. Molto molto divertente come storia. Poi abbiamo Paperinic, l'ultima storia è l'aiuto inaspettato, storia scritta da Diego Fasano e disegnato da Danilo Barozzi, uscita in origine su Paperinic e altri supereroi numero 54 del 1 marzo 98, e questa storia ragazzi è stata ristampata oltre appunto su Paperinic e altri supereroi 54, storia d'esordio, ma anche sulla stessa testata, ovvero Paperinic e altri supereroi numero 134, e questa è la fine che sta facendo questa testata di Paperinic, ovvero che stanno avendo ristampate tutte le storie della stessa testata. Poi è uscita anche su Paperinic Cult 32, Paperinic Upgrade numero 3, e Paperinic della Panini, ovvero Paperinic questa serie qui che stiamo guardando, sempre numero 28. Quindi ormai ragazzi, prendono anche le storie uscite sugli stessi numeri, già della stessa serie. Lavoro facilissimo, perché su Paperinic 28 abbiamo anche Paperinic Progetto Zero, che è sempre presente su questa storia. quindi praticamente lavoretto facile, facile di colui che sta curando appunto la testata. Storia diciamo particolare, dove vediamo che Zevo Perone viene derubato sempre al porto, le sue navi vengono derubate, addirittura Zevo Perone nutre dei sospetti nei confronti di Battista, perché ogni qualvolta succede qualcosa al porto, vediamo Battista partire a razzo verso il porto. Però Battista non è ovviamente implicato nella faccenda, ma è semplicemente il suo nuovo hobby, ovvero cercare gli indizi e risolvere casi polizieschi. Ed è socio del club Amici della Suspense, quindi cercherà di dare una mano a Paperinic. Ragazzi, che dire di questo Paperinic 91? Ci sono delle storie carine, però la maggior parte sono tutte ristampate, quindi continuo a ribadire che gli unici due lati positivi della testata sono la copertina, le copertine come sempre sono bellissime, e la saga dedicata a Daira Waki Knight, però vediamo che adesso verrà pubblicata la prima stagione in volumetto a parte, quindi si spera che poi verranno pubblicate anche successivamente le altre stagioni, così facendo diventerà ancora più inutile nella testata. Punto positivo anche per la carta, questa volta perché ha i colori non slavati, possiamo vedere che sono belli accesi, belli vivi i colori, quindi almeno su questo lato non ci possiamo lamentare. Bene ragazzi, con questo è tutto, fatemi sapere se avete acquistato questo numero di Paperinic o se lo farete, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!